Alla fine della giostra è toccato al presidente dell'autorità portuale Andrea Nunziata vestire i panni del cattivo e vietare lo spettacolo pirotecnico in onore del santo patrono Matteo. Nel balletto di competenze e veti incrociati con il comune di Salerno che aveva delegato alla prefettura l'eventuale autorizzazione dei fuochi e la prefettura rispedire al mittente la richiesta è toccato quindi al presidente dell'autorità portuale lì dove come da tradizione bisogna sistemare le batterie dei fuochi sbrogliare la matassa e chiudere la partita. La doccia gelata per chi si stava prodigando affinché quest'anno le celebrazioni in onore del santo si concludessero con i tradizionali, una volta ormai fuochi, è arrivata nella serata di ieri a 24 ore di distanza dalla pubblicazione delle locandine che pubblicizzavano l'evento. Annunziata attraverso un comunicato di poche righe ha infatti negato il permesso di utilizzare l'area del porto turistico per motivi di sicurezza. Come peraltro sottolineato anche dal comune di Salerno in occasione della festa del santo patrono, l'intera area portuale, scrive il presidente dell'autorità portuale, è il luogo di tradizionale passeggio e intrattenimento dei salernitani e dei numerosi turisti che arrivano in città. Inoltre da tradizione i circoli nautici organizzano eventi che richiamano numerose persone, dunque, conclude il comunicato, non sussistono le condizioni per lo svolgimento della manifestazione pirotecnica. Comunicato tombale che chiude in maniera definitiva la partita senza ulteriori discorsi. Una batosta durissima per cittadini e commercianti del centro storico, in modo particolare che si erano costituiti in associazione per poter regalare a tutti i salernitani una festa autofinanziata, vista la ferma volontà del comune di non voler sovvenzionare nessun evento. Volontà ufficialmente dettata dall'ospito esclusivamente religioso che ha inteso conferire la curia alla celebrazione, ma che invece nella sostanza va letta neanche tanto maliziosamente come una risposta data dall'amministrazione comunale, oggi retta da Enzo Napoli, al dirieto assoluto imposto dal vescovo Moretti all'ingresso della statua del santo patrono a Palazzo di Città. Grazie a tutti.